Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Le parole del Papa che segnano una svolta. Parole, quelle del Santo Padre, destinate a suscitare clamore. Nel cristianesimo non c'è una condanna dell'istinto sessuale. Il piacere sessuale è un dono di Dio e la castità non va confusa con l'astinenza sessuale. Questa è la puntualizzazione di Papa Francesco che, nel corso dell'udienza generale, ha proseguito un ciclo di catechesi dedicato ai vizi e alle virtù concentrandosi sulla lossuria e mettendo in guardia da un uso sconsiderato della sessualità, in particolare nel caso delle relazioni tossiche messe in luce dalla cronaca di tutti i giorni. Gli antichi padri ci insegnano che, dopo la gola, il secondo demone che sta sempre accovacciato alla porta del cuore è quello della lossuria, ha detto oggi Orge Mario Bergoglio. Francesco ha descritto in termini positivi l'innamoramento. È una delle realtà più sorprendenti dell'esistenza. Buona parte delle canzoni che si ascoltano alla radio riguardano questo. Amori che si illuminano. Amori sempre ricercati e mai raggiunti. Amori carichi di gioia. O che tormentano fino alle lacrime. Se non viene inquinato dal vizio, l'innamoramento è uno dei sentimenti più puri. Una persona innamorata diventa generosa, gode nel fare regali, scrive lettere e poesie. Smette di pensare a se stessa per essere completamente proiettata verso l'altro. È bello questo. E se chiedete a un innamorato per quale motivo ami, non troverà una risposta. Per tanti versi il suo è un amore incondizionato, senza nessuna ragione.